Buongiorno, si vuole presentare e dirci di cosa si occupa? Sì, salve, io mi chiamo Riccardo Codifava, lavoro in DEL da 2005 e ricopro la posizione di Storage Business Manager. Mi occupo dello sviluppo del Business Storage per tutto il mercato italiano. Oggi è tenuto un workshop, di cosa ha parlato? DEL ha deciso dopo il successo alla manifestazione di SMAO Milano di presenziare anche qui all'importante manifestazione di Roma perché la ritiene un punto di incontro importante tra quello che è la tecnologia, i produttori di tecnologia e i clienti che l'acquistano. Qui abbiamo parlato molto di virtualizzazione, ci siamo presentati qua sia per la nostra gamma mobility sia per la gamma di virtualizzazione. Abbiamo portato il case study di un cliente che ha deciso di virtualizzare le proprie infrastrutture server e client seguendo DEL come consulente, come provider di servizi e di hardware. SMAO si rivolge ad imprese pubbliche e private. Che consigli darebbe in questo momento a queste imprese? DEL nasce da un piccolo imprenditore, Michael DEL, che nel 1981 ha fondato questa azienda e adesso conta 96.000 dipendenti in tutto il mondo. Ha seguito tre regole fondamentali che sono efficienza, standardizzazione e automazione. Io credo che qualsiasi siano le aziende, sia se multinazionali, sia se PMI o pubblica amministrazione, queste tre regole potranno sicuramente ritornare in termini di investimento e di efficienza per tutte le aziende italiane. Grazie.